secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie braccio di ferro tra il don e lui il don non vuole questa sfida sfida braccio di ferro vai 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 mette metti qua davanti prima mi ha ammaranzato uno vediamo vediamo no no mettetevi però così non si vede si si vede perfettamente mettiti qua a stare appoggiato si vede bene ok vai 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 ma intanto sappiamo che perdi dai solo per la che vai via 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 3 2 1 via anche la pressione è la pressione quindi la per le persone normali se nel senso chi guarda i social vede la vita perfetta di qualcuno tipo max sarà venuto qua non so gli ha fatto festa avete visto che oggi è qua fa le cose fighe io a me piacerebbe una sette giorni 24 ti faccio vedere tutto quello che succeda c'è nel senso la vita di una persona che bene no 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 ancora ancora argomento argomento no vai argomento continuo continuo portano i loro contenuti bene bene guarda che l'amore è una cosa che guida la tua anima quindi che ti sembra che ti sembra che ti sembra della old fashion divertirsi costantemente non ti appaga no però ho voluto scoprire me stessa ma chiede se andava l'old fashion andava l'old fashion chiede se andava l'old fashion andava l'old fashion lato migliore dopo ok lato migliore cosa vuol dire e in quel senso in quel senso ho deciso di non fare che come l'anno scorso che facevo tutti i giorni live dalle 9 a mezzanotte senza me scammare ho deciso di fare un progetto un pochino più impegnativo un pochino più figo che ovviamente ci saranno dei giorni di scam ma nel senso tipo domenica solo scam perché bisogna preparare tutto nella villa però poi ci sarà una maratona di sette giorni 24 su 24 cioè letteralmente streamerò il doppio della scanta in verscona perché 24 per sette quant'è 24 per sette qualcuno gentilmente Sydney eh beh c'è molti pensano Sydney vabbè ci sta la capitale dell'Europa la capitale dell'Europa allora questa è un po' più facile la capitale dell'Europa dell'Europa si Roma giusto il mar mediturrano il mare nostro un torna tutto il mare nostro avete delle altre domande che vengono in me io ne ho una chi è Akira Toriyama non lo so neanch'io non lo so è me giusto mi sembra giusto io ne ho una chi è Akira Toriyama non lo so sinceramente ma come non lo so ma come lo so chi è Akira Toriyama non importa no ma ragazzi allora aspetta chiedetele Max falle qualche domanda su stesso magari tu hai velato perché c'è la sua scusi cos'è l'imene ci aiutano a capire sì sì è una domanda di cultura generale se no stavo a casa ha provato a vendere aspetta chiedi la conferma ma sta andando in negativo cosa ne pensi di quello di Steve Jobs del proprietario dell'interno penso che Steve Jobs debba rimanere sottoterra no 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 terribile che non scusami madonna addirittura no ma scusa perché è morto ma come cosa c'entra ma no ma ragazzi ma come ma ha rivoluzionato la tecnologia mondiale sono qua per scoparmi la sua no 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 dai no 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 per favore ti prego è una cosa che è una cosa che non ho mai fatto ho visto tutto bravissima spero anche da casa che abbiano visto perché ho visto grazie per il coraggio le mutande sono nere confermi no in realtà no ma come no no è vero la visita anch'io il suo ragazzo ideale il suo tipo di ragazzo ideale è il body è vero tipo di ragazzo ideale tipo di ragazzo ideale che cazzo mi sa del body moro alto occhi chiari come green boat praticamente è moro alto occhi chiari no scherzi è un po' pino no 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 va bene ragazzi grazie per il seguito questa live grazie a max grazie a valentina grazie a gabriele grazie al don grazie a tutti quelli che hanno partecipato ci vediamo domani alle 21 mi raccomando con altri 30 ragazzi un bacione uno spam di qualipare in chat ciao belli ci vediamo domani un bacione un bacione un bacione un bacione un bacione e scrivetemi nei DM di Instagram chi secondo voi è è a posto per no chi secondo voi è perfetto per il format un bacione no aspetta puoi ripetere che è importante? no cosa no? non sono fidanzata ok perfetto tu hai giusto per sapere presa esatto per me è dentro no 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 non sono questi criteri pensavo neanche di essere selezionata ero con lui a casa e ho detto vabbè mi hai fatto bene facciamo lui è cazzatissimo mi stai dicendo l'ho fatto anch'io eh non mi avete preso no eh oh aspetta capri fai il coglione coglione faglielo faglielo ti prego è un coglione è un coglione hai ragione hai ragione no poi volevo ancora coglione ancora ti prego ti prego cioè coglione volevo dirti allora dimmi perché dovremmo prendere la tua ragazza un altro un altro che dici ma non è una suora un altro come gli altri puoi no ma vabbè ma cosa fa avessi miato in qualsiasi lungo no ragazzi ma fermate no ma che cazzo ridi ma di qualcosa ma cosa fa con la mano Ma grazie Mr. Kezza per i 10 Oggi sto continuando a Manu del Gauciare Di cosa sa la lingua di Rubino Ma che domanda era Comunque Siamo ai casting 7 Dai fuori Si sono offesi A me è piaciuto tantissimo Siamo ai casting di 7 Fino a 6 Ma vabbè no ragazzi Vabbè E Grimbald? Grimbald lo seguo Mi piace molto Ti piace fisicamente? Esteticamente anche Nulla da togliere però preferisco ascoltarlo Che vederlo ecco Però Nulla da togliere Ok va bene Va bene Perfetto E invece Per collegarmi Ma perché Ma perché io ovviamente È il mio settore Ti volevo chiedere Visto che hai parlato di questa tua riscoperta Negli ultimi due anni È tutto vero È legato Io rubo le macchine Devo spiegarvi questa Perché noi ci facciamo 17 km in bici Perché nessuno doveva la macchina C'erano 17 km in bici In autostrada praticamente Era una È una provinciale Dove passano tutti i camion In autostraveloci Eravamo lì La prima cosa facevamo Guarda Andavamo nella casa Dove savamo che i tedeschi Non c'erano perché Venivano solo a giugno Ma ci tuffavamo E noi mai beccati Da solo Cosa farebbe In sette giorni In una villa lei Ok Pensa che troverebbe Un ragazzo Che le piace Fidanzata In sette giorni In una villa Pensi di trovare l'amore Forse non ci sa Può cadere tutto Farebbe mai sesso In una villa Sincero Sì Non sono fidanzata Ok Max Fagli la tua La prossima domanda Quella che ha detto Se farebbe sesso Potrebbe succedere mai Faresti Cioè Per te Eh dai L'avrei detto Ma sai che L'avrei detto Ultima Ultima perché Meglio il ragazzo Ricco Rocco Ricco dai Brava Grazie mille Grazie Ciao Buona serata Voto in chat ragazzi Subito così Guadagniamo tempo Voto in chat ragazzi Boh Io non saprei neanche Che cazzo dire Ero molto Interessato Però Non lo so Io ho frequentato Appunto Tutti gli step Giusti Ma che figa è Non mi sento Ma che figa è La sua Ma che figa è La sua Scusate Tanto non mi sento Vorrei essere il signore No da male Come è possibile Vabbè ma c'è forse una speranza Eh no bisogna andare Dovevo fare rugby Facevo rugby Come si fa Ma vabbè una domanda così Eh Cosa La tua vita come sarà Cioè come la vedi La tua vita da qua Ma quindi è La tua vita E la tua vita da qua